Guardate un po' quello che ho, è una raccolta preziosa, lo so, vi sembrerà che io sia una che ha tutto il mare. Che tesoro, che ricchezze, che mai al mondo ne ha quanto me, se guardi intorno dirai, oh, che meraviglie, ho le cose più strane e curiose, non ho nulla da desiderare. Vuoi? Come si chiama? Io non prendi. Ma lassù, cosa mai ci sarà? Imparerei tutto, già lo so, vorrei provare anche a ballare e camminare su quel... come si chiama? Ah, piedi. Come le pille non si può fare, vorrei aver pensato a dare, andare a spasso per fare, come si dice, strada. Vedrai anch'io la gente che al sole sempre sta come vorrei essere, senza un vecchio di libertà. Come vorrei poter uscire fuori dalla... che impagherei per stare a postra e a passo. Scommento che sulla terra le vie non le scrivono mai, ma la vita fanno in fretta ad imparare. di strano in fretta ad imparare. Dici... come si chiama? Come si chiama? Sì, fuori dal mare come vorrei vivere là. Grazie a tutti.